eh in modo che siamo amici si sarà fin quanto è che siamo migliori amici ti ho tenuto anche la mano quando ti hanno operato la prostata siamo amici si allora ti posso fare una confidenza beh ho troppo segreti si un segreto o due segreti allora c'è problema a teleprudizio un gelati un gelato e allora le scelte allora di voi c'è una roba grosso però eh dico ma te ne dico me con chi intende da te non fa ancora capi dai 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 eh c'è te lei corre un po' più forte che è io poi sì o si, poi si c'è un risultato a fare interdia a fare un figlio ma cosa avete fatto a sessantica e a sessantica o a sessantica o a sessantica avete fiché non è prescientica pure va la, aspetta, dunque non vuoi sentire più? si è chitta adesso posso spiegare ti spiego te lo spiego te lo spiego te lo spiego chi ha fatto il desiderato la ricerca eh? te lo spiego ma magari questo ti ha fatto un cuore sull'entrata di mare e te lo spiego che fai i tri croci per andare a fulè in quel da salè se ho capito il programma beh vuoi dire te lo spiego in auto e cinti e cinti e flors e tocca di una roba c'è a parte sull'outing tu l'entrata no attorno l'entrata ti vuoi sapere l'entrata però l'entrata vabbè ho capito è allora l'entrata e poi ricorda non l'entrata no mi fanno mettere l'ottonda mettere l'ottonda c'è ma dov'è chiedi ah chiedi da quegli altri e te l'esco e te l'esco e te l'esco non hai fatto neanche vedere i tibis pure pòr vittmer con l'usもうi dentro con la panna di naocia che era che era che era una forccia macchina beh che l'esco ho vieto è un cell con questi che lo fa che li fanno non lo so pare poi se ti invidiamo una pesca di che mi ha detto oh ma che c'è ne è F.B.I. un po' di sperpa, un po' ruvetto, mi vedi in greco, un po' di spacchessa che c'è, perché c'è troppo bello. Una volta in marzo mi sentite parlare con me, adesso si vende la base italiana per fare le caselle al marino, e poi ti patate al rumore che faccio una divina comedia. Per meglio, il libro dell'Apocalisse non è una divina comedia, c'è il Signore, i sette angeli della morte e i sigilli. Fatti robbi, te lo restai quel che hai sentito a fare vostro? C'è proprio un sfoco questo! C'è proprio un sfoco! C'è proprio un sfoco! C'è proprio un sfoco! Allora, io sto dico più, secondo me. Ti faccio sempre più parte che ho? Sul che fa? Niente, sul che fa? Niente di niente! Ah, su quello che ho fatto? C'è proprio una macchina! Il suo da chi? Allora, macchina! Ti so, ma perché prego... Ti avremmo una macchina? No, un'incrocio, una sua macchina... Ma è macchina, lo so! Stava a macchini! Stava a macchini! Stava a macchini ora! Ok! Stava a macchina! E io andavo a Roma! Ha sentito quel che c'era da lì! Perché a somma c'è un po' di Roma! Venti! No, ma prima, che vuoi somma? Che vuoi fare Roma? Questi sono i posti! Perchè Zà Contro a faccare di grande Contro il comune a Paschè I saprotterie Padeline Adesso c'è Maclark I scegliati E poi Stà Isborchi il cavallino bianco E bottiglia la cenni Però Adesso che ci penso Una cosa te la posso dire Sai che certe parole Non le possiamo più dire Una volta potete dire Quello un po' stroppi Le mogul Le scemo Le burrini Le strancalè Adesso E da lì Diversamente aprile Come ti sei per emisione Qualche scuola a te Dici Tuo amico è diversamente apri C'è tanto Però Io te lo potete Mi viene da dirti un'altra cosa però Che secondo me Nassu C'è qualcuno Di diversamente intelligenti E per Michigan Ho avuto Ciao 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 Ciao